Welcome to Notte Locale That can only mean one thing I know in that hotline bling That can only mean one thing Ever since I left the city It's a beautiful disaster It's a beautiful disaster I'm friends with the monster The sound of my bed Get along with the voices Inside of my head You're trying to save me Stop holding your breath And you think I'm crazy Yeah, you think I'm crazy Well, there's no pain Lessons in love Lessons in love All the homes that we were building We never lived in Could be better Should be better Radio Telelocale Enjoy radio Radio Telelocale Spot La ditta 2F Cucine Da sempre progetta e realizza per voi Le più belle e funzionali cucine componibili Con la possibilità di scegliere Tra una vasta gamma di elettrodomestici da incasso Inoltre troverete Camerette Camere da letto Pareti attrezzate Divani e complementi d'arredo A prezzo di realizzo Preventivi gratuiti Anche a domicilio La ditta 2F È incontrata a Piano dell'Acqua A Chiamonte e Gulfi Per info 0932 926 156 Centro commerciale Villaggio Gulfi All'interno Eurobar Garden Shop Pizzeria Pizza Pets Unipol Assicurazioni Tabaccheria e profumeria Bacco Tabacco Negozio artigianato etnico Oriente E supermercato Crai Face Food Panineria Stuzzicheria Creperia Piedineria Corso Umberto 58 Chiaramonte e Gulfi Agriturismo Valle di Chiaramonte Contrada Piano Zacchi Chiaramonte e Gulfi Per prenotazioni E info 0932 92 60 79 Chi ha vita? Chi ha vita? Ogni giorno la vita è una grande corrita Ma la notte no Ogni giorno una lotta chi sta sopra chi sotta Ma la notte no Al mattino è un po' grigio se non c'è il dentifrigio Ma la notte no Tu ti guardi allo specchio e ti sputi in un ecchio Ma la notte no Ma la notte no Poi comincia il lavoro e dimentichi il cuore Ma la notte no Parli sempre e soltanto delle cose importanti Ma la notte no E ti perdi la stima se non trovi la rima Ma la notte no Ti distrugge lo stress e dimentichi il sesso Ma la notte no Che stress, che stress, che stress di giorno Ma la notte no Dopo 3334 puntate Siamo di nuovo qui Ah sì? Ma quanto è beautiful Quanto è beautiful Spare il venerdì sera insieme a voi Con Giammito Messina Giammito Ma soprattutto con notte locale Ci è vicioso Burrafato Sì, buonasera Uè Bene, bene, bene Buonasera a tutti i nostri amici ascoltatori Che si sono appena connessi con noi Noi partiamo Partiamo con il nostro weekend 16 gradi nel nostro studio Quindi penserete che già fa abbastanza caldo Le 23 e 22 di questa sera E noi siamo carichi pronti Per regalarvi ancora emozioni Ma prima delle emozioni Con i grandi successi radiofonici del momento E poi grazie a Radio Giubox Ricorderemo delle canzoni che hanno fatto la storia Vi regaleremo anche dei sorrisi Quindi come solito fare nella nostra puntata Tante notizie pazze e curiose da tutto il mondo In compagnia questa sera Di chi vuol dirsi il rosario Sembra Rispetto Ti manca la corocina E poi può dire il rosario Ah sì? La Fracci La Fracci La Fracci Buonasera a tutti Ti stanno sentendo Sì Dimmi una cosa Vieni qua Avvicinati Avvicinati Che stazione si è arrivata? Perché si parla di stazioni? Ancora ha cominciato In via Zama? Sì Dove si è arrivata in via Zama? Sì Sto arrivando l'autobus Sta arrivando da Messina Ah da Messina? Ah che cognome Che città? Che città? Non a casa ha detto Messina Ah sì Lei che ha detto Salerno E infatti E signore e signori Il 2 d'eccezione Sembra un autostrada Stasera Ma non lo è Un duo radiofonico Per la prima volta I microfoni Salerno Messina Sì Buonasera Volevo dire che io Non ho la coro in giro Del rosario Quindi Ah sì? Sì Perché? Perché Mi limito solo ad ascoltare All'arra In questo modo No va bene Questa sera Faremo un duo radiofonico Quindi tu commenterai Con me le notizie Ci proverò Ci proverò Quindi Salerno Messina Manca Reggio Calabria Noi siamo pronti Carichi Di che cosa parleremo? Parleremo di un sogno Chi non ha mai sognato Nella vita Parliamo di un sogno Alquanto strano Il professore I suoi numeri Della settimana I numeri I numeri Quindi con la famosa rubrica Sì Ah La famosissima La famosa rubrica E poi Piccole cose Che ti cambiano La giornata Effettivamente poi Questa è una bella notizia Sono tante piccole cose Che poi alla fine Pum E arriva un bel giorno Eh Ti cambia proprio L'inizio della tua giornata Poi Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Il radio Giornale Locale News Sì Con le notizie Del territorio Poi abbiamo La maledizione Del calciatore Attenzione Una notizia che Ultimamente Nelle ultime ore Sta girando molto Sul web E poi E noi ve la regaliamo Questa sera E poi il meteo Sul colonnello Giulia Ci poi avremo qualcosa Da dire Eh sì Infatti Non so se questa sera Sarà con noi Non lo sappiamo Non lo sappiamo Perché È inaspettativa Sì È inaspettativa Perché Tra contratti Radiofonico Non si può C'è Lui parla di parcondicio Noi parliamo No 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 Assolutamente Vedremo se ci sarà Il nostro colonnello Questa sera Bene Noi iniziamo Iniziamo Tra poco Il radio giubox Valorissimamente Con un grande successo Del 1987 A chi lo volete dedicare Potete inviarci I vostri messaggini Nel nostro chat Sono online C'è il nostro gruppo Radio Tornale Locale On Air Quindi potete Iscrivervi Se non l'avete già fatto Bene Il power hit Di questa settimana Un grande pezzo Caro Gianvito Lo ascoltiamo subito L'ultimo di Drake Hotline Bling Radio Tornale Locale You used to call me on my You used to You used to Yeah You used to call me on my cell phone Late night when you need my love Call me on my cell phone Late night when you need my love And I know in that hotline blink That can only mean one thing I know in that hotline blink That can only mean one thing Ever since I left the city Got a reputation for yourself now Everybody knows and I feel left out Girl you got me down You got me stressed out Cause ever since I left the city You started wearing less And going out more Glasses of champagne Out on the dance floor Hanging with some girls I never seen before John Vita John Vita John Vita Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501